E' assurdo, perché a queste persone gli si dà la possibilità di lavorare senza pagare il suolo pubblico e lasciano il posto, in questo caso c'è una tant' gioia, in questo condizionato, abbandonando di tutto e di più. Bisogna che qualcuno faccia qualcosa, che si mandi un controllo e che si proibisca assolutamente questo scempio. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.